Stavamo giusto commentando con mia moglie che è tristissimo veramente, la nostra Milano così fa abbastanza effetto, devo dire la verità. Abituati alla scala, vedere tutta quella gente che arrivava con abiti sfarzosi eccetera, sembra, fa piangere il cuore. È un pochino triste per tutto quello che è accaduto quest'anno sicuramente, però non dobbiamo scoraggiarci, dobbiamo comunque avere la forza di andare avanti. Ci mancheranno molto le solite fiere milanesi, però l'importante è stare bene. Cerco di prendere il bello e il buono che viene ugualmente, quindi anche il fatto di essermi potuta permettere una camminata qua sotto, mi sento molto fortunata rispetto ad altri che non si possono neanche permettere questa cosa in questo momento. Va bene così, va bene così, va bene così, meno consumismo non fa male. Ci riporta più ai tempi antichi quando la povertà esisteva ma si vivevano le feste in un modo diverso, c'era più umanità, più solidarietà, più semplicità. Anche per me è triste, però stiamo bene, siamo qua fuori, godiamo delle piccole cose che ci sono che sono ancora belle. Non è un Sant'Avrogio come lo avevamo abituati, stringiamo i denti, l'anno prossimo speriamo di farlo meglio. L'importante è quello, fare tutto veloce e via. Un po' di ottimismo dai, pensando a chi sta peggio di noi poi.